ed eccoci ritornati in studio la seconda parte del nostro appuntamento della sera grazie per essere ancora in mia compagnia e come faccio sempre vi ricordo di nuovo anche il nostro indirizzo di posta per restare sempre in contatto con la nostra redazione basta scrivere ad angoli chiocciola espansionetv.it un locale storico che riapre i battenti per accogliervi anche in questo periodo delle feste e ne parliamo con pietro bazzoni ciao pietro benvenuto buonasera dolores buonasera a tutti grazie davvero per questa occasione grazie a te perché sei qui per raccontare di un locale che è davvero storico l'osteria il governo 1801 e che come ho detto riapre insomma la sua accoglienza al pubblico ovviamente del territorio ma anche ai turisti che come sappiamo amano il lago e quindi sicuramente non si faranno mancare un appuntamento in questo locale ma partiamo dalla storia 1801 è l'anno in cui noi credevamo fosse iniziata questa storia da te che l'abbiamo riportato immediatamente su quella che la nostra dicitura 1801 è l'anno in cui probabilmente francesco bazzoni mio avo compra questo localino sul lago di como pochi chilometri da bellagio vicino alla grande bellagio ma allo stesso tempo in un luogo molto sereno e lieto pensavamo che il nome governo derivasse dal fatto che lì ci hanno sempre narrato i nonni nelle serate d'inverno accanto al camino che silvio pellico amico di famiglia aveva trascorso gli ultimi suoi giorni di libertà nascondendosi una volta andato a distruggere le carte comprovanti la sua appartenenza alla carboneria al balbianello erano state notti in cui lui aveva meditato se fuggire in svizzera oppure andare incontro al suo destino che ben conosceva tornando a milano è tornato a milano come tutti noi ben sappiamo bene certo ci siamo resi conto man mano che lavoravamo lì man mano che incontravamo la gente man mano che stavamo in quel luogo che in realtà il nome il governo non deriva da quei fatti non deriva dai fatti dell'ottobre del 1820 perché abbiamo trovato questa iscrizione invece in una forma molto più antica e che è stata stimata essere del 1600 circa in un altro ambito in un altro punto del palazzo da lì è nata la domanda ma che cos'è questo governo perché l'hanno chiamato così perché da sempre si chiama così e quindi è stato anche molto interessante insieme tra un piatto e l'altro tra un'accoglienza di un ospite americano piuttosto che di un russo tra un mettersi a disposizione di tutti quelli che arrivavano lì scoprire la storia di questo luogo ed è una storia che ci ha un po' affascinato perché alla fine abbiamo trovato che nella sala antica le dimensioni erano stranamente espresse con unità di misura non più in uso da molto tempo con unità di misura che è stata usata per soli vent'anni nel nostro territorio e abbiamo capito anche l'origine del nome rozzo che è il nome del luogo in cui sorge il governo per farla in breve abbiamo scoperto che la sala antica era probabilmente una taberna nella sua origine che era realizzata con l'unità di misura del piede bizantino e che le sezioni di questa stanza riprendono la sezione aurea che era utilizzata appunto dai romani d'oriente nella costruzione degli edifici più importanti e il nome governo deriva dal fatto che nei castrum di fine impero il luogo dove erano svolte anche le attività amministrative del castrum era luogo dedicato agli incontri delle persone cioè il pubblico esercizio la taverna Pietro di fatto è un racconto ovviamente storico molto interessante pieno di riferimenti che toccano un po' anche tutti i tanti passaggi tante date importanti della nostra storia passata ma tu da cosa ti sei fatto realmente affascinare per decidere di riaprire questo locale di farlo tuo arrivato 50 anni ho pensato che in cielo probabilmente c'era tanta gente che nel momento in cui sarei salito mi avrebbe chiesto e mi avrebbe reso conto di qualche cosa perché in effetti mi sono reso conto che di certo sono almeno il settimo oste cioè della mia famiglia sono la settima generazione che ha l'incombenza di custodire questo luogo e quando mi sono reso conto dell'antichità di questo luogo che è stato edificato io credo sono solo un umile oste di lago ma credo sia stato edificato dalla stessa mano che è edificato l'isola Comacina perché rozzo deriva dal greco roche che significa arroccamento ed è la linea difensiva che viene posta parallela al fronte cioè esattamente quel valico che Narsete come prefetto dell'Italia decise di chiudere e che il Magister Militum Francione presidiò fino al 588 quindi l'ultima fortezza di Costantinopoli nell'Italia occidentale tutta questa storia così straordinaria ti piace raccontarla? c'è tantissimo agli americani esatto proprio qui volevo arrivare ai turisti che arrivano e che sicuramente sono affascinati dal nostro lago questo lo sappiamo bene dalla vicina località che hai citato poco fa Bellagio poi arrivano lì e lì c'è una storia straordinaria che tu racconti? che io racconto a ciascuno di loro insieme con del cibo fantastico io adoro il mio chef Roberto che per me è un fratello che io considero il miglior cuoco del mondo perché è giusto che sia così e che rimane incantata da una parte dalla qualità del cibo dall'altra dall'amore con cui viene accolto dal desiderio di rendere felici le persone che è un po' quello che mi ha mosso 50 anni a intraprendere un'avventura del genere e da una storia incredibile che affonda le sue radici 1500 anni fa e che è una storia carica di una magia introvabile io credo tu ne sei totalmente affascinato perché ne parli come di una donna meravigliosa della quale sei innamorato lo fai davvero con grande trasporto ma torniamo ai piatti perché hai nominato il tuo chef come amico come persona molto cara ma che è in grado di portare sui tavoli insomma ai tuoi ospiti davvero dei momenti di gusto imperdibili allora quali sono i piatti che tu ami di più? io adoro il risotto alla milanese che mi fa Roberto che è fatto come lo faceva la sua nonna quindi tanta tradizione tantissima tradizione con una leggerezza che è proprio quella necessaria oggi ai nostri gusti e poi soprattutto i nostri secondi incredibili per cui il suo petto d'anatra che è assolutamente spettacolare e anche i francesi ne vanno matti le cotture a bassa temperatura per lungo lungo periodo sottovuoto per cui lo scamone d'agnello la coppa di maialino al latte e ci stai già facendo venire l'acquolina perché l'ora è anche questa dovete venire a trovarla assolutamente sì ma un'altra cosa che mi ha colpito particolarmente è che per il 2020 questo locale sarà presente su un portale che davvero la dice lunga sui locali più interessanti tra i locali storici d'Italia è così? eccolo qua sì, devo ringraziare realmente il Presidente e l'Associazione di Locali Storici d'Italia che hanno accolto la nostra richiesta di entrare anche noi all'interno di questa prestigiosissima famiglia sono i 215 locali italiani più antichi quelli che stanno portando avanti la cultura dell'ospitalità dell'accoglienza e della ristorazione italiana nel mondo e quindi per noi far parte di questa famiglia è un grandissimo onore è l'occasione appunto di poter raccontare la nostra storia a tutti quelli che italiani e soprattutto da tutto il mondo vengono in Italia proprio per trovare l'essenza del gusto dell'ospitalità e dell'accoglienza italiana Pietro, proprio per essere presenti in tutto il mondo e far sì che insomma negli itinerari che soprattutto gli stranieri costruiscono per visitare al meglio i nostri territori è importante essere social e voi anche sotto questo profilo lo siete e in breve tempo vi siete anche affermati in posizioni di tutto rilievo è così? Sì, non per merito nostro credo proprio nel senso che per noi la cosa fondamentale è che chi viene da noi si sente accolto a casa per cui entri in una casa italiana, vieni accolto in una casa italiana e non sei un cliente noi diciamo sempre che non siamo un ristorante siamo una casa dove tu sei ospite e poi il secondo motivo per cui sono certo che i nostri clienti ci stanno così tanto anche aiutando loro stessi parlando bene di noi in tutto il mondo è proprio il fatto che io credo che dietro in cielo ci siano una cinquantina di osti che stanno facendo il tifo per noi e credo che gli osti, dato che versano il vino e fanno da mangiare in cielo continuo molto Tu fai molto riferimento a questo aspetto durante questa nostra chiacchierata non è la prima volta che ti riferisci a qualcuno che insomma in cielo possa osservare con un occhio di riguardo questa tua scelta detto questo, allora grazie magari a un occhio di riguardo che potrai ricevere in questo senso che cosa ti auguri per questa nuova apertura e questa nuova esperienza che sia proprio un luogo dove uno possa venire e stare bene che è il nostro grande obiettivo il motivo per cui io credo che la gente stia venendo al governo e sia felice di essere al governo come si mette insieme la storia e l'innovazione per arrivare ad un risultato di successo? perché tutti noi incredibilmente da qualunque parte del mondo e potrei raccontarvi storie infinite cerca la propria origine e tutti quelli che stanno venendo lì rimangono incredibilmente impressionati dal fatto che quel luogo lì magicamente perché gli uomini non sanno fare queste cose non possono fare queste cose da 1500 anni forse sta dando da mangiare e sta accogliendo la gente e questo è proprio l'aiuto più grande che la vita di ciascuno di noi cerca cioè tornare alla propria origine e capire da dove partiamo perché poi è quello che ci consente di sapere chi siamo oggi C'è qualche commento che ti ha particolarmente colpito di qualche visitatore, di qualche ospite che è arrivato da te, te lo ricordi? mi hanno fatto piangere in tanti l'ultimo è stato domenica questi due americani che sono partiti da Verona per andare a Milano e sono venuti da me ma da Verona a Milano non si passa da Lezio? ma non si passa quindi insomma gli itinerari assolutamente vengono studiati per non mancare questa tappa che è ricca di emozione e a proposito di emozioni abbiamo anche l'albero di Natale qui vicino il Natale ormai è davvero alle porte potrebbe essere un'occasione per festeggiare e per conoscere ancora meglio la storia di questo locale che ne dici? credo proprio di sì anche perché la sala del Torchio cioè la sala antica la sala che forse Francione ha frequentato che Narsete ha pensato sarà adibita al brindisi per cui accenderemo il cammino e brinderemo insieme a Natale all'anno trascorso e soprattutto all'anno che ci verrà donato per il 2020 quindi credo che sarà proprio l'occasione per riscoprire chi siamo tutti insieme bene che dire quindi una cucina eccellente in un luogo storico assolutamente ricco di emozioni ma soprattutto c'è e ci sarà Pietro Bazzoni insomma ad intrattenervi e a raccontare ancora di più di quello che ha detto qui da noi ad Angoli grazie a te grazie a te grazie a voi grazie anche a voi per essere stati con me rimanete lì con me ogni sera tra poco la linea ai colleghi dell'informazione grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi